Dal Vangelo secondo Giovanni La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano sbarrate le porte del luogo, dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse, pace a voi. Buona Pasqua a tutti. Il brano evangelico della scorsa settimana, quello del giorno di Pasqua, ci ha presentato tre persone innamorate di Cristo che all'alba sono corse al sepolcro, la Maddalena, Pietro e il discepolo amato. Hanno visto la pietra rotolata, il lenzuolo che era a terra sgonfiato senza il corpo di Gesù, il sudario, e questo è accaduto il mattino di Pasqua. Il brano di oggi ci racconta la manifestazione del risorto ai discepoli la sera dello stesso giorno e inizia dicendo dove si trovavano. Erano chiusi in casa, con le porte sbarrate, perché avevano paura dei giudei. Notiamo, non si dice che erano gli apostoli o i dieci, dieci perché Giuda se n'era andato, ma manca Tommaso la sera del giorno di Pasqua. Tommaso, mentre tutti sono sbarrati dentro casa, Tommaso è fuori. Comincia a esserci simpatico perché lui non ha paura di stare fuori. Se parla di discepoli significa che non si rivolge solo ai dieci che erano nel Cenacolo, ma si rivolge a tutti i discepoli. Quindi l'esperienza che adesso ci racconta è quella che devono fare tutti i discepoli. Hanno paura dei giudei e dobbiamo chiarire che nel Vangelo secondo Giovanni i giudei non sono tutto il popolo di Israele, no. Sono nel Vangelo di Giovanni l'immagine degli increduli, di coloro che si oppongono alla proposta di mondo nuovo fatta da Gesù. Sono coloro che si sentono infastiditi dalla sua luce e preferiscono la tenebra del mondo antico. Questa prima comunità è spaventata ed è l'immagine della Chiesa quando ha paura di chi non accetta la proposta di uomo che lei fa. Proposta di mondo nuovo, di nuova società. è la Chiesa che teme il confronto con chi la pensa e vive in un modo diverso. Si rinchiude, si arrocca, vede il male un po' ovunque, anche dove non c'è, e si isola perché teme di non saper rispondere agli interrogativi che il mondo le pone, non sa dare, pensa di non saper dare le ragioni delle proprie scelte. Ha paura, si rinchiude su se stessa. E la paura è sempre un pessimo consigliere per la Chiesa perché può renderla aggressiva, intollerante, fanatica, come è successo nella storia, smette di dialogare, smette di proporre le proprie convinzioni, ma se può tenta di imporle. Ecco, quando noi ripensiamo alla storia della Chiesa ricordiamo alcune paure, la paura della scienza, quando la Chiesa è arroccata contro il razionalismo, scoperte di Galileo, le teorie evoluzionistiche, oppure la paura della democrazia, la paura della libertà di coscienza, e diciamo anche la paura degli studi biblici, delle interpretazioni nuove che erano dettate dalle nuove scoperte storiche, archeologiche. E c'è voluto un concilio per spazzar via queste paure. E anche oggi le paure non mancano perché la Chiesa si deve confrontare con la società che ben conosciamo, che è sempre meno propensa ad accogliere le proposte impegnative del Vangelo. Rinuncia, il sacrificio, progetti di vita impegnativi sono un po' fuori moda. Si preferisce fare scelte meno coinvolgenti, che so, si va a convivere fino a quando piace, farsi una famiglia stabile, impegnarsi in un'unione d'amore fedele, incondizionata, pare un po' una proposta ad altri tempi. Si preferisce una vita che potremmo chiamare consumistica, cioè mi prendo i piaceri che posso godermi nell'immediato. È bene ciò che mi piace. Ecco, di fronte a questa società, a questo mondo, i discepoli possono essere tentati di arroccarsi, di stare lontani per paura del confronto, di essere ritenuti magari retrogradi, medievali, gente che non sta al passo con i tempi e rinunciare a quello che Gesù ha detto. Dovete essere sale della terra, luce del mondo, gli dovete stare nel mondo. Ecco, chiediamoci, come mai i discepoli sera di Pasqua hanno paura? E la ragione è che non avevano ancora fatto l'esperienza dell'incontro con il risorto. E anche tutte le nostre paure hanno sempre la stessa origine. Manca la luce del risorto che illumina e deve illuminare ogni momento e ogni scelta della nostra vita. credo e anche fra di noi sono più gli ammiratori di Gesù di Nazareth e delle sue proposte morali più che coloro che realmente hanno visto il risorto. Cosa smuove i discepoli a Gerusalemme nella sera di Pasqua dalle loro paure? Viene Gesù e sta in mezzo a loro. Sono importanti questi verbi che vengono impiegati dall'Evangelista Giovanni. Dobbiamo notarlo. Non dice che Gesù appare, si fa vedere e poi scompare. No. È una presenza adesso che rimane in mezzo alla comunità dei discepoli. È l'evento che cambia tutto in questa prima comunità di discepoli. La presenza in mezzo a loro del risorto e cambia tutto nella Chiesa di oggi quando si prende coscienza che nella comunità cristiana il risorto continua presente. L'Evangelista Giovanni impiega un verbo per dire che hanno fatto questa esperienza dell'incontro con il risorto, l'hanno visto o meglio si è fatto vedere e viene impiegato il verbo orau. La scorsa domenica noi abbiamo distinto tre verbi in italiano ne abbiamo uno solo vedere i greci ne hanno tre che vengono impiegati dall'Evangelista. Il primo bleppo è il vedere con lo sguardo materiale il verificabile e la maddalena ha visto la pietra rotolata poi c'è un altro verbo theoreo comincia chi ha visto ad andare oltre a riflettere è un vedere che va un po' più in là va già verso l'invisibile e poi c'è un altro verbo che viene impiegato orau ed è quello che l'Evangelista Giovanni impiega per dirci l'esperienza che loro hanno fatto hanno visto ciò che con gli occhi materiali non può essere verificato vedono l'invisibile vedono il risorto e questo sguardo è lo sguardo della fede lo sguardo dell'amore lo sguardo che permette di contemplare ciò che è reale ma che gli occhi materiali non possono verificare e l'Evangelista dice che nel giorno di Pasqua i discepoli si sono resi conto di una nuova presenza un nuovo modo di essere presente di Gesù in mezzo a loro una presenza che supera tutti i limiti che appartengono al nostro mondo quelli dello spazio e del tempo ed è una presenza che è attuale oggi se non prendiamo coscienza della presenza del risorto in mezzo a noi emergeranno tutte quelle paure cui abbiamo accennato e che la storia della Chiesa ci dice che sono state vissute sentiamo adesso cosa vedono questi discepoli che sono tenuti insieme più che dalla fede in Cristo dalla paura dopo aver detto ai discepoli pace a voi mostrò loro le mani e il costato e i discepoli gioirono al vedere il Signore Gesù disse loro di nuovo pace a voi come il Padre ha mandato me anch'io mando voi dopo aver detto questo alitò su di loro e disse ricevete Spirito Santo a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi quando si manifesta al gruppo dei discepoli riuniti nella sera di Pasqua il risorto dice loro pace a voi e poi mostra le sue mani e il costato non si tratta di un gesto apologetico quasi che Gesù volesse dimostrare la propria corporeità risorta dobbiamo cancellare questa immagine che noi vediamo nei dipinti occidentali Gesù che esce dal sepolcro è ancora quello di prima con il suo corpo e torna in mezzo a noi no la risurrezione non è questo la risurrezione non è tornare qui ma è entrare nel mondo di Dio il mondo definitivo il mondo in cui entreremo tutti noi come mai mostra le mani e il costato non si riconosce una persona dalle mani e dal costato la si riconosce dal volto invece Gesù mostra la propria identità nelle mani e nel costato quindi quelle mani le dobbiamo contemplare bene perché sono la rivelazione delle mani di Dio nell'antico testamento si parla delle mani di Dio ma la rivelazione del volto di Dio e anche delle sue mani è progressiva e la rivelazione piena delle mani di Dio noi la troviamo nelle mani di Gesù di Nazare cosa significano le mani le mani indicano l'azione le opere che uno compie e noi guardando alle mani di Gesù perché Lui mostra la propria identità proprio in queste opere che Lui compie con le sue mani nell'antico testamento in genere quando si parla delle mani di Dio è in un'accezione positiva Dio che fa del bene con le sue mani ma ci sono anche dei momenti in cui si parla delle mani che castigano quando Dio stende le mani sull'Egitto arrivano le piaghe poi anche la minaccia di uno dei fratelli Maccabei quando dice al sovrano tu non sfuggirai alle mani di Dio è una minaccia e anche nella lettera agli ebrei abbiamo quell'espressione che riflette però il linguaggio delle omelie rabbiniche è spaventoso cadere nelle mani del Dio vivente vediamo invece la rivelazione piena delle opere compiute da Dio attraverso le mani di Gesù le folle si meravigliano dei prodigi compiuti dalle mani di Gesù guarisce quando quando incontra il lebroso Gesù stende la mano e lo accarezza oppure la scena dolcissima di Gesù che prende i bambini fra le sue braccia e li accarezza con le sue mani impone loro le mani oppure ancora le mani di Gesù che lavano i piedi dei discepoli ecco queste mani hanno fatto la proposta di mondo nuovo quello del servizio del dono d'amore ma queste mani sono state inchiodate bloccate da chi voleva perpetuare l'opera antica delle mani qual'era quali erano le opere delle mani del mondo antico quello della tenebra erano le mani che distruggevano che aggredivano che facevano guerre commettevano violenze mani che non donavano prendevano si accaparravano egoisticamente ecco questo mondo antico ha pensato di bloccare questo mondo nuovo fatto di servizio fatto di opere di amore inchiodandole sulla croce ecco Gesù presenta queste mani come la sua identità e poi oltre alle mani mostra il costato da quel costato è uscito sangue e acqua sangue indica vita nella cultura semitica ed è la sua vita donata totalmente per amore e l'acqua è la vita nuova quella dello spirito è il dna divino che ci è stato donato mani e costato quindi sono la carta di identità del figlio di Dio e non solo di Gesù devono essere la carta di identità di ogni figlio di Dio perché avendo ricevuto lo spirito di Cristo la vita dell'Eterno che Gesù ha portato nel mondo ecco allora che anche in noi la carta di identità è questo tipo di mani mani che agiscono soltanto per amore e i discepoli quando hanno visto questa identità del risorto gioirono al vedere il Signore e questa gioia nasce dall'armonia con la propria identità di uomo che vive secondo il disegno di Dio la tristezza infatti nasce dal pensare che il dono della vita che si è visto realizzare in Gesù fosse un fallimento la gioia nasce dalla scoperta che l'amore che è stato vissuto non viene cancellato ogni opera di amore rimane poi il risorto dice come il padre ha mandato me anch'io invio voi abbiamo visto questi discepoli che per paura sono rinchiusi in casa adesso il risorto li invita a uscire a non avere paura li manda nel mondo e cosa li invia a fare invia i discepoli a mostrare al mondo le loro mani che devono essere come le sue invia i discepoli a fare al mondo una proposta di mani diverse mani che si impegnano per la vita non per la morte mani che non commettono violenza ma che costruiscono un mondo di pace la chiesa esiste per rendere presenti e visibili le mani del Signore per realizzare le sue opere per portare a compimento quel mondo nuovo con lui ha dato inizio ecco il mondo è in diritto di vedere nelle nostre opere nell'opera delle nostre mani l'opera delle mani di Gesù e poi come mai Gesù compiva queste opere perché si muovevano così le sue mani solo per l'amore perché era mosso dallo spirito e questo spirito nel giorno di Pasqua lui lo ha comunicato alla comunità dei suoi discepoli il verbo che viene impiegato dall'Evangelista Giovanni è assoffiato dentro di loro è un verbo rarissimo ricorre nell'Antico Testamento soltanto due volte una è quando è stato creato l'uomo Dio ha soffiato dentro il suo alito e poi ricorre un'altra volta nel libro di Ezechiele quando questo alito dà vita a quelle ossa aride che sono sparse nella pianura nel Nuovo Testamento soltanto qui ricorre questo verbo e allora comprendiamo il significato che l'Evangelista vuole dare a questo soffio del risorto è l'uomo nuovo che viene creato dal dono dello spirito di questa figliolanza divina e continua a coloro che rimetterete i peccati saranno rimessi a coloro che li ritenete saranno ritenuti e il concilio di Trento ha detto che Gesù ha istituito il sacramento della penitenza con queste parole ha accordato ai discepoli il potere di rimettere i peccati certamente il sacramento della riconciliazione è un dono prezioso che ci è stato fatto per recuperare la vita che è stata cancellata o incrinata dal peccato ma le parole di Gesù hanno un significato più profondo più ampio perdonare il peccato vuol dire verbo che viene impiegato qui a fiemi portar via significa far scomparire il mondo ingiusto quel mondo in cui si usano le mani per far del male all'uomo ecco questo è il mondo del peccato i discepoli adesso hanno ricevuto lo spirito e devono cancellare portar via spazzar via il peccato il mondo vecchio Gesù sta dando una enorme responsabilità alla sua comunità se il peccato non viene spazzato via la responsabilità è proprio dei discepoli che non si lasciano guidare dallo spirito che il risorto ha donato loro nella Pasqua questa è stata la manifestazione del Signore ai discepoli riuniti nella sera di Pasqua mancava Tommaso otto giorni dopo quindi nel giorno del Signore la domenica quando la comunità si riunisce c'è anche lui Tommaso uno dei dodici chiamato Didimo non era con loro quando venne Gesù gli dicevano allora gli altri discepoli abbiamo visto il Signore ma egli disse loro se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato non crederò nel Vangelo secondo Giovanni i personaggi sono reali Pietro Giovanni Andrea Nicodemo però questi personaggi diventano anche simbolo di un modo diverso di rapportarsi con il Maestro e Tommaso è stato scelto come il rappresentante della difficoltà ad accogliere il risorto colui che cerca prove razionali verificabili della risurrezione tutti gli evangelisti ci dicono che i discepoli non sono arrivati subito alla fede nel risorto hanno fatto fatica hanno avuto tanti dubbi Marco ci dice alla fine che Gesù quando si manifesta agli undici li rimprovera per la loro incredulità e durezza di cuore Luca quando il risorto si mostra loro dice che ha detto perché siete turbati perché sorgono dubbi nel vostro cuore e Matteo nell'ultimo capitolo proprio l'ultima manifestazione del risorto ce lo presenta dicendo che alcuni ancora dubitavano allora non soltanto Tommaso ha dubitato e ha fatto fatica a credere nel risorto ma tutti hanno avuto dei dubbi degli interrogativi quando Giovanni scrive verso il 95 o 90 Tommaso è già morto da tempo come mai prende questa figura forse perché ha fatto più fatica degli altri ma diventa il simbolo di tutta questa difficoltà che hanno provato i discepoli e che proviamo anche noi hanno fatto fatica a credere si sono chiesti come ci chiediamo noi quali sono le ragioni che ci possono indurre a credere a vedere il risorto e per noi oggi è ancora possibile fare questa esperienza ci sono delle prove che è vivo sono le domande che noi oggi ci poniamo e Giovanni sceglie Tommaso come simbolo della difficoltà che ogni discepolo incontra vediamo la figura di Tommaso allora quando viene presentato l'Evangelista aggiunge sempre il suo soprannome Didimo e significa gemello e è già la terza volta che compare nel Vangelo secondo Giovanni e compare sempre come gemello gemello di qualcuno ci insiste troppo l'Evangelista gemello di ogni discepolo e allora vogliamo capire come mai siamo gemelli di questo Tommaso che ha difficoltà ad accettare il risorto e siamo gemelli suoi perché perché gli assomigliamo ma vorrei chiarire subito Tommaso si è allontanato dalla comunità dei discepoli ma non è gemello di chi abbandona la chiesa e se ne va disprezzando gli altri perché si sente lui il vero discepolo e si sente superiore ecco Tommaso non è gemello di chi magari è scandalizzato di ciò che accade nella comunità cristiana abbraccia l'ateismo oppure scegli un'altra religione Tommaso non ha mollato tutto per andare per la sua strada ha mantenuto un legame con chi ha condiviso con lui la scelta di seguire il maestro di fatti otto giorni dopo lo ritroviamo di nuovo con la comunità è gemello di chi soffre di chi ha amareggiato in certi momenti dell'esperienza ecclesiale e si allontana per un momento da questa comunità magari perché non capisce certe scelte è gemello di chi ha creduto nel mondo nuovo di chi ha dato l'anima per la proposta di Cristo pensiamo a quei catechisti che per vent'anni si sono impegnati nell'annuncio del Vangelo hanno dedicato tempo e energie e hanno un momento di scoraggiamento di delusione parliamoci chiaro con qualche esempio qualcuno anche oggi si allontana dalla Chiesa a causa degli scandali che emergono fra i discepoli e che hanno conseguenze devastanti oppure chi è deluso da una struttura ecclesiale monolitica centralizzata paludata dove si compete ancora per salire nel potere una Chiesa una Chiesa che si presenta ancora con un certo sfarzo con la ricchezza oppure chi è deluso da una Chiesa ancora medievale un po' costantiniana clericale gemello gemello di Tommaso è chi ha un momento di difficoltà ma poi torna nella comunità perché sa che lì è presente qualcuno lo scoprirà dopo il risorto che mantiene unita questa comunità e che con questa comunità porta avanti il suo progetto di mondo i discepoli i dieci hanno già visto il risorto e dicevano a Tommaso è bello il verbo originale non è dissero a Tommaso ma dicevano a Tommaso quindi è un'azione continuata cercavano di convincerlo noi abbiamo visto raccontavano la loro esperienza Tommaso è uno che avrebbe voluto un altro tipo di prove quelle razionali quelle verificabili in questo è nostro gemello perché anche noi desidereremmo avere delle prove della risurrezione di Cristo non sono possibili perché si tratta di esperienze che non riguardano il nostro mondo ma il mondo di Dio ecco l'incontro con Dio noi lo possiamo fare anche nella nostra intimità personale stando nella nostra stanza pregando individualmente il risorto può essere visto e incontrato solo nella comunità dei discepoli e riunita nel giorno del Signore sentiamo come l'Evangelista ci racconta l'esperienza pasquale di Tommaso nel giorno del Signore otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso venne Gesù a porte chiuse si fermò in mezzo a loro e disse pace a voi poi disse a Tommaso metti qua il tuo dito e guarda le mie mani stendi la tua mano e mettila nel mio costato e non essere più incredulo ma credente rispose Tommaso mio Signore e mio Dio Gesù gli disse perché mi hai veduto hai creduto Beati quelli che pur non avendo visto crederanno Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli ma non sono stati scritti in questo libro questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo il figlio di Dio e perché credendo abbiate la vita nel suo nome otto giorni dopo con i discepoli è presente anche Tommaso l'allusione è alla domenica Gesù sta nel giorno del Signore in mezzo ai discepoli e si presenta sempre con le stesse parole pace pace a voi è il saluto che sentiamo nel giorno del Signore pronunciato da colui che presiede alla celebrazione eucaristica la pace sia con voi ed è il saluto che il risorto rivolge ai discepoli da rivolto ai dieci e ora a Tommaso discepoli discepoli lo hanno abbandonato che lo hanno anche rinnegato ma il risorto non rimprovera dona sempre la sua pace anche quando nel giorno del Signore noi ci presentiamo con tutte le nostre fragilità e debolezze non riceviamo alcun rimprovero il saluto è sempre la pace io dono a voi poi si rivolge a Tommaso metti qua il tuo dito guarda le mie mani stendi la tua mano e mettila nel mio costato non è un rimprovero rivolto a Tommaso Gesù realizza il desiderio che aveva Tommaso quello di toccare di vedere le sue mani e la ferita che ha lasciato aperto il suo fianco è l'invito a Tommaso a tenere sempre il suo sguardo fisso su quelle mani e su quel costato ed è esattamente l'invito che viene fatto a noi il giorno del Signore a contemplare quelle sue mani e quel costato perché se noi teniamo sempre davanti agli occhi che cosa hanno fatto quelle mani che hanno costruito soltanto amore quando noi usciamo di chiesa durante la settimana avremo sempre presente il compito che il risorto ci ha dato quello di mostrare a tutto il mondo le sue mani nelle nostre mani e come possiamo guardare quelle mani come possiamo tenere gli occhi fissi su quel costato che ha donato tutto il suo sangue cioè tutta la sua vita ci viene presentato nell'eucaristia nel pane eucaristico Gesù quando riassunto ha voluto presentare in un segno tutta la sua storia di vita donata l'ha presentata nel pane io mi sono fatto pane di vita ho donato tutto me stesso come alimento di vita lì noi siamo invitati nel giorno del Signore a fare esattamente quello che desiderava fare Tommaso guardare quelle mani e contemplare quel costato lo dobbiamo sempre fare perché se noi non teniamo i nostri occhi fissi su quelle mani e su quel costato noi nel mondo non riusciremo a riprodurre la presenza di Cristo Tommaso fa la sua professione di fede la più bella che noi troviamo proprio lui che era stato presentato come colui che faceva fatica a credere è sulla sua bocca che è messa la più bella delle professioni di fede mio Signore e mio Dio è importante nel contesto storico questa espressione perché siamo al tempo di Domiziano e voleva essere celebrato come il Signore e il Dio i suoi ordini venivano formulati in questo modo Domiziano nostro Signore e nostro Dio ordina che Tommaso dice il discepolo di Cristo non ha come punto di riferimento questo Signore e questo Dio che è l'imperatore di Roma quello che l'Apocalisse ci presenta come la bestia perché rappresenta il mondo antico il nostro Signore il nostro Dio adesso è colui che ci presenta quelle mani che hanno costruito soltanto amore e quel costato che indica il dono di tutta la sua vita auguro a tutti una buona Pasqua e una buona settimana e un'imperatore